benvenuti su radio news ventiquattro sono Mattia Giardinetto e questo è Onere il programma dove voi ci parlate della vostra attività ci dirigiamo in Piemonte per parlare di arte audiovisiva e lo facciamo grazie all'aiuto di Alessandro Mazzetta prego buongiorno a tutti salve ciao salve a lei Alessandro è un piacere averla qua per parlarci innanzitutto del suo lavoro da freelancer che riguarda appunto video making fotografia insomma media creator in poche parole esattamente parlare innanzitutto di come è iniziato e soprattutto di che cosa si occupa sì guarda l'ha iniziato come la maggior parte dei fotografi quindi con una una grande passione per l'immagine per la fotografia e per l'immagine in movimento quindi con i video questo ovviamente molti molti anni fa quando ancora non c'era il digitale poi con il digitale tutto è diventato da un lato più facile da un lato anche un po più complicato perché richiede comunque una formazione maggiore questa formazione l'ho avuta e ho sviluppato quindi tutto ciò che è il mondo del video making quindi dell'edit in video della creazione di progetti grafici per i video eccetera insomma molto bene molto bene e da dove arriva diciamo questa preparazione per quanto riguarda il suo settore questa preparazione per la maggior parte viene praticamente da quasi da autodidatta quindi seguendo dei corsi online certificati in videoconferenza e quindi mi sono preparato in questo settore qua quindi per quanto riguarda il motion graphics grafica in 3d le grafica in 2d eccetera leggete insomma molto bene molto bene diciamo che è un percorso diciamo molto improntato sul diciamo non tanto su essere autodidatta più che altro bisogna prepararsi attraverso comunque le proprie conoscenze i propri studi e cercare diciamo quello che diciamo si addice più alla nostra personalità e di conseguenza sviluppare la nostra idea preciso esattamente sì poi in punto in questo periodo qua in questo ultimo anno di pandemia quindi questo lavoro si è modificato radicalmente quindi si è limitato praticamente del tutto ciò che sono il lavoro di fotografia all'esterno quindi vuoi di cerimonie vuoi anche di spot aziendali quindi questa cosa qui è stata limitante per il nostro lavoro e bisogna diciamo ho dovuto ricrearmi un pochettino sfruttando quello che si poteva fare quindi le faccio un esempio magari che ne so lavorando con gli istituti scolastici tanto per dire era impossibile appunto frequentare gli istituti tramite gli open day per poter scegliere gli istituti per i tuoi figli ho collaborato con degli istituti creando dei virtual tour dove praticamente i genitori comodamente dalla pagina web dell'istituto potevano visitarlo navigando viaggiando tra le aule e con degli hot spot vedere le attività e capire meglio cosa offriva l'istituto questo è uno dei tanti esempi molto bene molto bene più che altro è interessantissimo ci spieghi innanzitutto come ha fatto realizzare questo ambiziosissimo progetto beh innanzitutto la richiesta degli open day mi è arrivata da un paio di istituti era una cosa per me nuova questo 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 virtual tour mi sono mi sono adoperato per per attrezzarmi veramente in pochissimi giorni con le attrezzature adeguate e poi mi sono proposto a mia volta quindi a altri istituti che non conoscevano questa questa possibilità e niente ho sviluppato appunto questo filone della mia attività di fotografia che prima non conoscevo ma di necessità virtù e di conseguenza è andata molto bene molto molto bene soprattutto più che altro per rendere più chiara l'idea più che altro della scuola che andremo a frequentare senza evitare appunto evitando appunto il contagio esatto questa poi questa tra l'altro questo tipo di virtual tour si è applicato molto bene anche nel mercato immobiliare collaboro infatti con delle agenzie immobiliari che non potendo appunto fare le visite in persona in presenza dei clienti ricorrono a questi virtual tour insomma sì anche molto bene direi di approfittare del momento di ricordare le persone che possono supportare attraverso le pagine social e il photomaker sia su facebook che su instagram mi raccomando per appunto seguire questi fantastici lavori queste fantastici fantastiche idee io direi di lanciare anche il nostro hashtag con appunto virtual tour dato che ne ha parlato parecchio esattamente ed è questa grandissima idea che è nata di un pieno lockdown più che altro so che lei sta anche collaborando per sponsorizzare anche delle app per per cellulari e non solo creando appunto delle animazioni e vorrei più che ci parlassi anche di questa fantastica lato questo fantastico lato del suo lavoro esattamente quindi laddove dove non c'è un prodotto finito da poter mostrare quindi un prodotto finito che sia la foto di una bottiglia piuttosto che la foto di una di una crema così interviene la computer grafica interviene la computer grafica quindi le aziende mi propongono i loro progetti mi dicono le loro attenzioni su cosa vogliono focalizzare la pubblicazione del loro prodotto a questo punto io gli creo in computer grafica il loro prodotto finito in modo a mostrarlo in uno spot questo vale per le app e vale anche per i prodotti fisici che ancora sono in fase di di credit di creazione insomma quindi creo questi spot dove praticamente vedono le persone vedono il prodotto finito vedono la finita quando in realtà ancora magari non è stata pubblicata però si rendono già conto di cosa possono avere in mano una volta che sarà pubblicata dalla azienda insomma e queste applicazioni più che altro che cosa riguardano ultimamente sto lavorando le applicazioni sportive quindi praticamente delle associazioni sportive che propongono corsi online e bisogna pubblicizzarli un po come si deve non basta fare il classico post ah da oggi facciamo facciamo il corso online prendete il nostro pacchetto quindi creano delle app e queste aziende che creano app si rivolgono a me per quanto riguarda tutto il comparto grafico e di animazione di queste app molto molto interessante per maggiori informazioni mi raccomando informatevi per qualsiasi consulenza e il fotomaker sia su facebook che su instagram mi raccomando è importantissimo anche per trovare questa fantastica intervista tenuta qui su radio news 24 alessandro è stato un immenso piacere averla qua con noi su radio news 24 e grazie a te grazie mille buon lavoro anche a voi buon lavoro anche a lei a presto radio news 24 torna tra poco con altre storie e interviste ma restate con noi ciao a tutti i